Buonasera, benvenuti a casa mia, benvenuti ancora di nuovo, ben ritrovati qua nel disordine della mia libreria, da me e dal mio ultimo acquisto librario, ovvero sia Il Pipistrello Bomba e altri assurdi progetti militari per fortuna mai realizzati. Un libro scritto da Vince Houghton. Allora, sentiamo un po' che cosa è scritto nelle note di questo libro. Allora, Robert Wade, il co-sceneggiatore dei film di 007 Casino Royale e Skyfall, ci dice che questo libro è straordinario, informativo, esilarante e terrificante. Questo libro fa apparire Il Dottor Stranamore come fosse un documentario pesantemente censurato. Allora, l'ex ufficiale della CIA e autore del libro How to Get Read of a President, David Price, ci dice che non guarderete mai più allo stesso modo la storia delle forze armate americane, della CIA o della guerra fredda, per non parlare dei gatti randaggi del vostro quartiere. John Seifer, invece, che è istruttore capo della scuola di formazione della CIA, ci dice che Houghton unisce umorismo e ironia con l'occhio allenato di uno storico dello spionaggio. Perché la curiosità è che l'autore Vince Houghton è il curatore dell'International Spy Museum di Washington, ovvero il museo dello spionaggio a Washington, un museo che, se vi capita di andare nel district Washington DC, fateci un salto perché ho visto il sito internet, è veramente carino come museo, molto divertente, molto istruttivo, vi devo dire la verità. Allora, dicevo, Houghton unisce umorismo e ironia con l'occhio allenato di uno storico dello spionaggio. Avrei riso a crepapelle se non fosse stato tutto così spaventoso. Da veterano della CIA sono solo contento che il mio nome non compaia tra queste pagine. Perché? Allora, allora, allora. La presentazione ci dice che si può ridere e contemporaneamente imparare? Perché le due cose non sono necessariamente antitetiche e questo libro di Vince Houghton ne è la prova. Ridere si ride parecchio, anche in maniera sguaiata, perché le storie raccontate in queste pagine sono assolutamente irresistibili. Però, mentre si ride, si riesce anche a pensare. Perché queste pagine non sono di finzione. Raccontano cose incredibilmente vere. E proprio questo aumenta il loro carico esplosivo di comicità. Se pensavamo che il dottor stranamore di Stanley Kubrick fosse frutto della fantasia di un regista geniale, e il dottor stranamore è oggettivamente un capolavoro assoluto, signori, un capolavoro meraviglioso, va bene. Invece, Houghton ci dimostra che la storia è del tutto plausibile, anzi, forse è persino un po' edulcorata. Vabbè. E nelle realtà è successo anche di peggio, il che è tutto dire. Allora, il pipistrello bomba parla di missioni segrete, piani tattici, armi innovative e di tutto ciò che le migliori menti di un paese in guerra sono riuscite a concepire nel disperato tentativo di difendere la propria nazione. Tutti conosciamo la storia del progetto Manhattan e della costruzione della prima bomba atomica. Ma quello che non sappiamo sono gli innumerevoli piani alternativi, pensati, studiati, valutati e infine scartati. Sono loro i protagonisti di questo libro, gli improbabili piani militari che hanno avuto, almeno per un breve periodo, una reale chance di essere realizzati, salvo poi venire scartati perché giudicati troppo pericolosi, troppo costosi, troppo avanti rispetto ai tempi o più spesso, semplicemente, troppo demenziali. Nel 1958 l'aeronautica americana voleva sganciare un'atomica sulla luna per mostrare ai russi la potenza bellica statunitense. Nel 67 la CIA voleva impiantare un'apparecchiatura ricetrasmittente nei gatti. Gatti che sarebbero stati usati come spie in territorio sovietico. Nel 1942 gli inglesi volevano costruire un'intera portaerei fatta di ghiaccio e segatura, mentre gli americani volevano fare una bomba fatta di pipistrelli vivi da sganciare sul Giappone, ne abbiamo parlato qualche giorno fa. Questo libro raccoglie 24 progetti militari mai realizzati e li racconta nel dettaglio attraverso ricerche d'archivio approfondite e al contempo raccapriccianti. La scrittura non può che essere ironica, dato il tenore quasi lisergico di certe invenzioni, ma dalla lettura di queste pagine esce anche uno spaccato di storie militari della Seconda Guerra Mondiale e della Guerra Freda che lascia a bocca aperta. Sì, perché Houghton è, come dire, ripeto, curatore dell'International Spy Museum di Washington, docente di storia all'Università del Maryland dove si è occupato in particolare di storia diplomatica e militare con particolare riferimento allo spionaggio durante la Seconda Guerra Mondiale e nella Prima Guerra Freda. Tra l'altro potete trovare su internet i podcast di Houghton in Spycast che è seguito annualmente da oltre 3 milioni di spettatori e questo libro è il suo primo libro. Il suo primo libro è un piccolo, geniale capolavoro di serissima ironia e di divertentissima, rigorosa e esemplare ricerca storica. Il Pipistrello Bomba ci parla di tutta una serie di progetti clamorosamente tra il folle, il geniale e il demenziale. Cioè l'invenzione, diciamo, la storia dei primissimi droni, ripeto, l'idea di sganciare, di lanciare una bomba atomica sulla Luna per spaventare i russi. Anche questo. Il progetto Habakkuk, la famosa portaerei di ghiaccio, la Bat Bomb del progetto X-Ray, il Pipistrello Bomba, il più clamorosamente demenziale, insomma il più clamorosamente demenziale progetto della Seconda Guerra Mondiale forse. Praticamente gli aerei, si parla qui anche degli aerei a propulsione nucleare, si parla di tutta una serie di piani, progetti, storie. C'è persino il famoso cannone solare tedesco, ideato, pensato da Hobart. Ci sono, come dire, scusate, c'è per esempio la terrificante operazione Brilliant Peebles, c'è la storia di Felix Rodriguez, l'agente della CIA di origine cubana che fu uno dei più acerrimi nemici degli agenti comunisti in America Latina. Tant'è che, se guardate l'ultima foto di Che Guevara in vita, Felix Rodriguez è accanto al guerrigliero di origine argentina. Insomma, come dire, uno si legge questo libro, cioè ride, ride veramente a crepa pelle, perché l'ironia e il modo di raccontare di Houghton sono veramente divertenti. Cioè, sembra di vedere, come dire, un esempio di stand-up comedy. Avete presente gli spettacoli, dei comici americani che in piedi su un palcoscenico con in mano soltanto un microfono intrattengono il pubblico? Robin Williams era un grande esempio. Per dire, sembra veramente di vedere uno spettacolo, di leggersi uno spettacolo di stand-up comedy. Alcune battute sono fulminanti, l'ironia è straordinaria. La capacità di avvincere il lettore con le folli trovate per cercare di fare la guerra, cioè, sono spettacolose. È un libro che veramente si legge, si legge di un fiato. Un libro che vi consiglio veramente di tutto cuore, perché per avere un'idea... Cioè, io l'ho sempre detto, anche se mi interesso di seconda guerra mondiale, anche se mi interesso di storia, anche se oggettivamente da appassionato di storia delle guerre, come dire, so bene che la guerra è brutta, che la guerra è terribile, che la guerra è qualche cosa di spaventoso, ma che anche in guerra, anche nella più terribile delle attività umane, l'involontaria ironia salta sempre fuori e c'è detto vai avanti tu che mi viene da ridere! Veramente! Ve lo consiglio, signori, vi consiglio caldamente questo libro. Un piccolo capolavoro di divulgazione che racconta episodi più o meno noti, che racconta episodi più o meno folli e credetemi che c'è qualcosa di veramente fuori di testa, cioè ci sono cose realmente fuori di testa in questo libro, ve lo posso garantire. Insomma, un libro che vi consiglio caldamente, un libro che vale, come dire, i 23 euro del prezzo, un libro che realmente vi farà sganasciare dalle risate, ma che al contempo vi gelerà il sangue, perché sono tutte cose vere già fatte, documentate. Insomma, signori, che vi posso dire? Leggetelo, perché veramente, veramente ne vale la pena. Cari signori, Vince Houghton, il pipistrello bomba, e altri assurdi progetti, per fortuna, mai realizzati. Un libro che vale veramente la pena di leggere e di gustare. Insomma, che ve lo dico a fare? Signori, leggetevelo, gustatevelo, perché ne vale veramente la pena. Si ride alla grande, ma al contempo si rimane agghiacciati, perché pensate veramente, cioè, ma veramente lo hanno fatto? Sì, lo hanno fatto o hanno provato a farlo. Cose turche in questo libro, signori, preparatevi, perché c'è veramente di che ridere. Leggetevelo, ne vale la pena, signori. Tutto qua. Quindi, cari signori, mi raccomando, come sempre, fatemi sapere, commenti, commenti qua sotto, commenti, ok? Fatemi sapere che cosa ne pensate e, ripeto, leggetelo, perché veramente, non scherzo, non scherzo, è un grande libro, è uno spettacolo, cioè, è un libro spettacolare. Avete bisogno di farvi quattro risate in maniera seria? Eccolo qua. Il pipistrello, bomba. e altri assurdi progetti militari mai realizzati di Vince Houghton, editore Bollati Boringhieri. Costo 23 euro e, credetemi, sono 23 euro dannatamente ben spesi. Tutto qua. Quindi, signori, commentate qua sotto, commentate, commentate, aspetto le vostre, insomma, aspetto che vi scateniate, detta com'è. Quindi, cari signori, come sempre, vi ringrazio per l'attenzione, come sempre, arrivederci al mio prossimo video. Ciao!